È una giunta totalmente ferma, hanno annunciato provvedimenti per 144 milioni di euro e 33 misure per aggredire l'emergenza, hanno voluto provocatoriamente chiamarle norme cura Abruzzo, il risultato è che dei 144 milioni di euro solo 12 milioni sono arrivate nelle tasche dei cittadini e per altri 10 si è attivato un fondo rotativo di 5 mesi per i consorsi di bonifica. Delle 33 misure, solo due misure hanno bersagliato l'obiettivo per le quali erano convocate durante l'approvazione di questa norma. È davvero una giunta ferma che ha voluto fare tanta propaganda e tanti annunci, ma che non ha realizzato una vera e propria risposta a questa emergenza e che nel frattempo si lascia andare, cioè ferma e lenta sulla programmazione e aggiungiamo, guardate che le risorse che il governo italiano, 300 miliardi di euro ha trattato con l'Europa, più le altre risorse già a disposizione di questa regione, maglia nera per l'utilizzo di risorse già in cassa, sono attivabili se c'è la capacità di avere una visione e una programmazione di questa regione, attualmente nell'esecutivo regionale è totalmente assente la capacità di avere visione e programmazione.